segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te terra io come tanti altri di leggere anche questi verbali di dare in qualche modo delle risposte e spiegare che cosa è successo nella stanza dei bottoni in quelle settimane drammatiche allora senatrice sandra zampa bisognava e bisogna chiarire cos'è successo nella stanza dei bottoni perché lei ci stava come sottosegretaria del ministro alla salute speranza che cosa replica a quello che ha sentito finora e a proposito delle zone rosse nella prima fase della pandemia pare che fosse tutto pronto per l'istituzione di queste zone rosse e poi non se ne fece nulla chi non non volle fare nulla parliamo della provincia di bergamo scusa ecco specificato certo 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 è un punto va subito chiarito le zone rosse sono state un'invenzione in un certo senso un pezzo di quella strategia di contrasto all'epidemia ma all'inizio quando il ministro speranza il governo conte istituì e cominciarono a inventarsi le zone rosse servivano a contenere l'epidemia quindi la diffusione del virus e venivano vennero predisposte per zone geograficamente limitate codogno un esempio perfetto di quello che sto dicendo ad un certo punto anche a seguito del fatto che si andava via via maturando sviluppando nel confronto tra scienziati ed esperti più conoscenza è emersa la esigenza di aprire di fare zone molto più grandi e alla luce dei dati che venivano fuori sulla lombardia più fu chiaro che bisognava non limitarsi a quella zona che ha ricordato prima ma secondo la procura di bergamo l'avete fatto l'avete fatto troppo tardi senatrice zampa secondo la procura di bergamo è stata fa allora certamente io so che nembro e alzano c'era stato il via libera del ministro speranza ma che si riaprì in con in cts il dibattito se estendere a tutta la lombardia cosa che fu fatta immediatamente il via libera arrivò il quattro di marzo le responsabilità di questo ritardo aspetti un attimo se sto spiegando le quale è stata la dinamica quindi le responsabilità del ritardo dica solo rapidamente questo che poi voglio passare al cts le responsa io so che il ministro speranza aveva firmato già per la chiusura di alzano e nembro so però che la discussione che si aprì fu che bisognava estendere a tutta la lombardia perché non bastava contenere certo perché il quattro di marzo era tardi certamente è andato perso qualche giorno dice dice francesca nava